Mi trovo in Via Duomo, nella città vecchia. Sono innamorato della città vecchia. Un patrimonio fantastico, ma guardate che scempio, guardate che degrado, guardate un antro, un vicoletto che è praticamente sommerso dai rifiuti. Qui non è colpa dei cittadini, la dobbiamo smettere col dare sempre colpa ai cittadini. Qui i cittadini non c'entrano nulla. Qui ci si trova una sola pattumella, un solo raccoglitore, uno solo. Caro Melucci, mi dici dove cazzo devono mettere, devono lasciare i rifiuti, i sacchetti, i cittadini? Mi dici dove cazzo li devono mettere? Presidente Mancarelli, presidente di Chima Ambiente Amio, mi dici dove cazzo li devono mettere? Cosa facciamo? Li prendiamo e li portiamo alla sede dell'Amiu, a Paolo VI? Li prendiamo e li portiamo sotto palazzo di città? Giusto, così potrebbe essere un'idea. Non è un'istigazione, lungi da me, non sia mai. Ma dico, magari, visto che c'è il problema, ve li dividete un po'. Un po' se li tengono i cittadini della città vecchia e un po' ve li tenete voi, visto che non siete in grado di risolvere il problema. Scusate, già avete fatto un casino nella città vecchia tra, per quanto riguarda un lato, raccolta differenziata con i raccoglitori ingegnerizzati, con la compresenza di ingegnerizzati e diciamo di raccoglitori di pattumele tradizionali. Già questo è un casino che avete combinato. Ma al di là di tutto, scusate, un cittadino, lo ripeto, che deve conferire, che deve lasciare i rifiuti, cosa deve fare? Voi state condannando i cittadini al porcile, voi li state condannando. E da consigliere comunale non permetterò mai che questa gente possa essere tacciata come sporcaccioni. Io sotto i miei occhi ho visto le persone disperate che dicevano dove devo lasciare i sacchetti. Lo dicevano con rabbia, con vergogna, perché si sentivano male a far vedere che stavano lasciando i sacchetti qui, ma non avevano altra scelta dove li devono portare. Se li devono portare a casa, se li devono appendere al collo, ditemi voi dove li devono lasciare. E purtroppo la sede naturale è questa, ne sta uno solo e chi si è visto e tu Melucci mi vieni a parlare di Taranto città turistica. Avete scialacquato d'anaro pubblico, avete scialacquato 7 milioni e mezzo di Euro con il 6GP. Avreste dovuto far vedere questa merda, avreste dovuto far vedere questa merda e la vostra incapacità, incapacità di gestire la problematica dei rifiuti a Taranto. Guardate un po', è normale? Questa è una città del terzo mondo, ma non per causa dei cittadini, perché voi amministratori con la vostra assoluta incapacità l'avete resa tale. Questo è il biglietto da visita della città vecchia, non certo, e lo sottolineo fino alla nausea, per colpa dei cittadini, ma solo per colpa vostra, incapaci politico-amministrativi. Dimettetevi, dimettetevi, perché i cittadini della città vecchia vogliono respirare, vogliono vivere in condizioni civili, non in questa merda, non in questa merda. E mi viene a parlare di turismo. Ma che cazzo dici, sindaco? Che cazzo parli di turismo? Guarda questo schifo, guarda.